71 da qui a spostare. Che cos'è l'intelligenza? Commento. L'intelligenza non risiede nel cervello fisico, che è l'organo transitorio dell'individuo incarnato, che fa da terminale del corpo mentale, il quale elabora i pensieri che poi si manifestano all'interno del piano fisico. Ma nemmeno il corpo mentale crea nulla, perché i pensieri sono elaborati ma non creati dal corpo mentale, poiché sono le risposte ai bisogni evolutivi del corpo della coscienza dell'individuo che pensa. Nemmeno il corpo della coscienza crea nulla da solo, perché è mosso dal tentativo di ampliare la comprensione di se stesso sotto la spinta della parte più elevata del nostro essere, che è la scintilla divina. Da qui a spostare il concetto di intelligenza alla divinità, il passo è molto breve. Grazie. 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 Grazie.